I protagonisti dell'arte contemporanea nella Galleria Giulia chiudono la stagione espositiva 2006-2007. La Galleria ospita, infatti, Pedro Cano, Tommaso Cascela, Pablo Echaoren, Guido Strazza, Titina Maselli ed anche una serie di sculture di Esmeralda Crea. Musica E quando sciolgo la cera e poi all'improvviso realizzo il mio lavoro. E appunto, cosa ti posso dire? Realizzo il mio lavoro e così nasce, attingo dagli archetipi. Perché loro sono la mia guida e è un gioco per me. E appunto, è un filo conduttore, rintraccio questi archetipi e realizzo il mio lavoro. E ricordo, ecco, penso che quando realizzo il mio lavoro io vado in trance e attingo dagli archetipi appunto questa estasi della mia creatività. E che cosa ti posso dire? Appunto, che amo troppo questo lavoro e appunto è basta. What a difference a day made 24 little hours Brought the sun and the flowers Where they used to be rain My yesterdays What a difference would be rain